Il comune è coinvolto in una fase decisionale, arrivano i profighi, telefonata alle 4 per comunicare alle 6 arrivano i profighi. Quando dico San Zenone, non intendo la stazione, se fa anche il catechista, non è prostituzione, studia leggi, diritto to e costituzione, è il prodepalavirino di questa istituzione, con San Zenone domani che una lista civica, Sergio Fedeli amministra la politica, profughi nei feudi, una situazione critica, col suo destriero dalla pappa vitaminica, accoglie lo straniero nel regno lodigiano, lo mischia con il clero di Sordio e Tavazzano, nei campi e magese di Dresano e Mulazzano, fedeli cui fedeli punta anche al Vaticano, col giavellotto ti trafugge, se bestemmi comerini, con la Susi insegna guelfi e ghibellini, mangia arancini con gli alpini travalli e appennini, al comune di San Zenone, cia vassalli e vassallini, a refugge, find us out today, will be reviewed at the police station for this day, during February and March, this creates tension anyway, good morning first of all, I'm Sergio Fedfu, Every other mayor, tomorrow will be out shown, good morning first of all, I'm Sergio Fedfu, Who's on the living world, gets from Sergio the Tombstone, good morning first of all, I'm Sergio Fedfu, Who's called Catholic Veronica, using mobile phone, good morning first of all, I'm Sergio Fedfu, Who's the greatest mayor, of St. Zenone? Le ragioni della candidatura non sono da ricercare, in un'ipotetica situazione assai conflitto, ale, con il sindaco attuale, o con la giunta comunale, e col mandato quinquennale, sei chiamato per votare, per le europee e per la provincia ale, 6-7 giugno, e ti regalerò un puntale, tu vota per fedeli, con delega alla cultura aia, per l'istruzione, per la prefettura aia, con il moe scudo e la bianca. Il moe scudo e la capillatura aia. Paese che vuoi è una minoranza, di cui un componente della cittadinanza è stato messo nella maggioranza, modificando dei cittadini l'indicazione, per finanziare il terzo stato a St. Zenone, da Vallinsulo vota pure la Brunellaia, gli cede il posto pure Sergio Mattarellaia, da il salario ai contadini mezzogiorno, Arianna Tronconi gli può fare da contorno. A refugio, finds out today, will be reviewed at the police station for this day, during February and March, this creates tension anyway. Good morning first of all, I'm Sergio Faithfuls, every other mayor, tomorrow we'll be out shown, good morning first of all, I'm Sergio Faithfuls, the living world, gets from Sergio De Pumston, good morning first of all, I'm Sergio Faithfuls, the cold cathete veronique, using mobile phone, good morning first of all, I'm Sergio Faithfuls, the greatest mayor of St. Zenone. In questi cinque anni ho cercato di svolgere un lavoro nell'interesse della collettività, chi mi conosce sa quale impegno ho messo in disposizione. Io ho chiesto a fin dell'inizio di mettere in condizioni i profughi di prestare delle attività nell'interno delle strutture comunali, in modo tale che loro si rendono utili. Tommaso e vi riva Franco Zereto, oggi faccio gli anni, 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 22 anni nel 2021 farò... E se la tua mayor mi detesta, mi abbattò come uno tsunami giù in palestraia, e se la tua crew mi detesta, mi abbattò come uno tsunami giù in palestraia, e se la tua mayor mi detesta...